Mi hanno fatto un provino via Skype, proprio come poi succede nel film e mi ricordo ancora che avevo fatto tutta la fotografia da sola, avevo gestito tutta la situazione, è stato veramente un po' imbarazzante perché io non conoscevo Stefano Ludovici. Guarda un po' che è tornata dalla gira, allora hai scopato o mi sei rimasto fedele? Però è stato appunto divertente, ho scoperto una parte di me in realtà sensuale, anche un po' aggressiva in questa cosa, Stefano un po' pudica, un po' signorina, vini, diciamo così. Direi che prima di tutto è un personaggio bidimensionale, nel senso è come se non potesse esistere fuori dal web, come se una volta chiuso il PC quel personaggio morisse e poi riprendesse vita nel momento in cui ti accendi il computer e ti ritrovi di nuovo di fronte, come se la svegliassi ogni volta che vi era una chiamata. Scusami devo andare. Io recitavo direttamente davanti al computer, avevo soltanto l'aiuto regia accanto a me, tutto il resto della troupe si trovava in realtà con Lorenzo, l'altro attore che poi era nel ruolo di Alberto e Stefano aveva fatto in modo che io e lui non ci vedessimo prima del primo Chuck, quindi è stato abbastanza divertente perché appunto la prima volta che ci siamo visti eravamo in diretta su Skype online e abbiamo appunto girato la prima scena, quindi è stato anche abbastanza divertente vedere la faccia di Lorenzo che era abbastanza travolto dalla situazione e allo stesso tempo anch'io me lo stavo studiando, ha creato, grazie a questa foto secondo me Stefano ha creato delle qualcosina in più nella scena. Ci sono una serie di contrasti all'interno della storia, sia tra i personaggi e il resto del mondo ed è proprio la lotta che c'è e che avviene proprio a quell'età e soprattutto per questa generazione, è un continuo scalpitare ed è una continua lotta tra un'intimità e un'immagine che si vuole dare anche al resto del mondo, anche il web è proprio questo, è come se potessi avere una doppia personalità, una che c'è nella vita e una che invece è sul web e direi che in questa sceneggiatura questa cosa esce forte e chiara.